Un atto di indirizzo per l'individuazione in città di aree da riqualificare e caratterizzare dedicandole a morale sei graffiti legali per riuscire a riconvertire aree urbane degradate e disincentivare gli orrendi imbrattamenti che hanno spesso colpito edifici pubblici e privati. I consiglieri di ora Ghinelli, Angelo Rossi e Mari Cornacchini chiedono al sindaco Ghinelli alla Giunta ad impegnarsi a individuare all'interno del tessuto urbano le aree da riqualificare per far diventare a Rezzo un punto di attrazione e meta di riferimento del Movimento Writers. Oltre come soluzione dovrebbe essere anche un modo per poter far esprimere chi fa questi morali invece che utilizzare pareti in modo illegale e potergli dare degli spazi, cioè sia degli spazi pubblici che privati con dei progetti che dovrebbero essere approvati da una commissione. Uno dei pareri negativi è arrivato direttamente dalla Giunta, proprio dall'assessore Tanti? Ma non era l'assessore coinvolto perché noi praticamente si doveva sentire presso, cioè in carico era semmai l'assessore Gamurrini oppure la cultura, non certo quello l'assessore alla scuola. Cioè il nostro è unato da un discorso di degrado e di cercare di, visto che poi dopo c'è da spendere per riqualificare le zone, ci sono spese aggiuntive e tutto doveva essere dedicato a questo. Siamo stati anche contattati però, devo dire, dalla scuola di ammellia scesa alpino, all'istituto comprensivo e ci hanno parlato di un progetto che hanno messo in atto con gli studenti che dovevano fare ora il 13 di febbraio, dove insegnavano ragazzi, prima cosa che non si scrive nelle pareti, seconda doveva essere anche un rapporto che ci poteva essere con questo artista spagnolo, quindi insegnamento della lingua spagnola o una condivisione di queste cose. La scuola era stata presa in considerazione per questo, ma non perché era tirata per questo motivo qui.